Ciao a tutti! Oggi prepareremo il budino alle mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più il tempo di raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono latte di mandorla, panna fresca, zucchero e amido di mais. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte di mandorla, la panna fresca per dolci, lo zucchero e l'amido di mais. E' di azionare il bimbi per 8 minuti 80 gradi velocità a 3. Trasferire i stampi per budino. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente, successivamente riporre in frigo per almeno 4 ore. Budina alle mandorle! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!